Risotto, con salsiccia italiana, misurata e taleggio. Taleggio è un semi soft cheese, 100% milza di caccia. E suggerisco che ogni volta che lavorate con questo tipo di cheese, solo usate un paio di glos. Iniziamo! Oliva. Nel tempo che la salsiccia sta cucinando, potrò filtrare l'acqua del muscolo. Il risotto è in. Un'è molto. È il momento di aggiungere la salsiccia. Un po' al tempo. Questo è il taleggio. Per la final mantecatura, aggiungo la batteria, come una strada di batteria. Una strada di batteria. Una strada di parmesan. Suono molto, ragazzi. È molto semplice. Non ti fai messo. Questo è il mio modo. Show me il vostro. Lasciami nei commenti cosa pensi di questa ricetta. Clicca sul like. Subscribe. E clicca la bellissima per essere notificato per una ricetta. Ciao! Ciao!